C'è un'isola in mezzo all'oceano. In quest'isola c'è una fabbrica guidata da uno scienziato con un sogno folle, quello di eliminare la fatica dagli esseri umani. E così inizia a costruire degli schiavi del tutto simili agli esseri umani che chiama robot. Solo che questi robot iniziano a ribellarsi e a conquistare l'intero pianeta. Ve la faccio breve, la storia va a finire bene perché i robot scoprono la forza dei sentimenti ed evitano di sterminare gli esseri umani. Il termine robot nasce così, in un racconto di fantascienza del 1920 dello scrittore cieco Karel Čapek. Nel libro usa il termine robot da robota, un vocabolo slavo che sta per schiavo o aiutante nel lavoro. I robot sono una risorsa del presente e una chiave del futuro. Per realizzarli fisica, bioingegneria e robotica vanno a braccetto e c'è una città in Italia dove queste e molte altre discipline sono all'avanguardia, da sempre. Ecco perché in questa puntata di Memex, i luoghi della scienza, ci troviamo proprio qui, a Pisa. Il mio corpo, la mia mente, le mie emozioni, la mia percettibilità emotiva, la mia sensibilità fisica. Io come funziono? Come funzionano tutti i meccanismi umani e si possono studiare e tradurre in linguaggio matematico? Ed è forse così che si progettano macchine e tecnologie bio ispirate di ultimissima frontiera? Sto entrando in uno dei regni della robotica e della bioingegneria in cerca di risposte. Buongiorno. È lei che mi sta parlando? Sì, sì, è lei che ti sta parlando. E chi è? Vieni, te la presento. Lei è Faze. Buongiorno, molto piacere. Mi sta dando la mano. Sì, sì. È un robot sociale. È molto educato. Esatto, esatto. È programmato per esserlo. È un robot sociale. Il suo obiettivo è proprio quello di stabilire un rapporto empatico con le persone. Ecco, un robot completamente diverso dagli altri. Assolutamente sì. Normalmente sono concepiti i robot per stabilire un rapporto fisico con le persone. Faze invece cerca di capire lo stato emotivo delle persone, quindi interpretare le espressioni facciali e tanti altri elementi che gli permettono di avere con te un comportamento diverso da come potrebbe avere con altri interlocutori. Tipo un bambino, una persona più triste. Assolutamente sì. Può adattare il suo comportamento al tuo stato d'animo percepito dall'esterno, quindi per esempio attraverso le tue espressioni facciali. Quindi adesso ad esempio mi sta guardando? Sì, però ti potrà sembrare strano ma ti guarda da qua perché è in costruzione. Al momento il suo sistema visivo è questo qua. È una camera che gli permette di vedere un'immagine in alta risoluzione ma anche di percepire la profondità. E grazie a questo studia per esempio le tue espressioni facciali, una stima dell'età, deduce il tuo genere perché può cambiare il suo comportamento se sei un uomo o una donna e anche la gestualità del tuo corpo perché per esempio nell'interlocuzione empatica è molto importante la gestualità e quindi lei deve poterla carpire all'interno della conversazione. Possiamo fare una prova tipo questa stima dell'età, mi interessa. Certo, vieni qua davanti così che ti possa vedere. Così vediamo se è schietto, se è educato anche in questo, se è sincero o meno. Su questo non posso garantire. Ti metti davanti al suo punto di vista, ai suoi occhi e vediamo come va. Ti ha correttamente identificato come una donna, l'età stimata è 28 più o meno 7, è un po' incerta e un sorriso al 100%, ora è un po' calato perché stai muovendo la testa e quindi... No, no, ma sorrido per l'età che mi hai dato Face, sorrido. 28 più o meno 7, perfetto. Ora 31 più o meno 7, quindi uscilla un po'. Si può adottare Face nei momenti di tristezza così la... Vediamo, vediamo, questo è un ottimo esempio di utilizzo di robot sociale. Mi stavi dicendo che Face è ancora in costruzione. Sì esattamente, come vedi la testa e il corpo non sono ancora collegate, abbiamo costruito da poco le braccia e le mani e stiamo pensando anche alla parte inferiore del torso. Mister Bicchi, eccomi, buongiorno. Lei mi stava aspettando per farmi conoscere questo esserino qui? Sì, questo è Alter Ego, il nostro piccolo robot avatar, quello che usiamo per andare nei posti dove la persona non può andare. E questa si chiama teleoperazione, l'uomo rimane fuori e Alter Ego entra in ambienti non accessibili. Esatto, in ambienti in cui c'è magari pericolo per l'uomo, ci sono esalazioni, o rischio di crolli o altri motivi, anche semplicemente è molto lontano e la persona non ci può andare. E cosa potrà arrivare a fare Alter Ego in futuro? Alter Ego si comporta in questo momento come un piccolo essere umano. Questa versione è su ruote per avere maggiore velocità e agilità, ma potrà avere anche gambe. Ha due braccia, una testa e degli occhi e effettivamente ripete i movimenti della persona, quindi guarda dove l'operatore vuole vedere, manipola gli oggetti come l'operatore gli dice di fare. Quello che lui può arrivare a fare è di aiutarci in quelle operazioni dove abbiamo bisogno di un Alter Ego, di un avatar che ci sostituisce. L'abbiamo utilizzato, questo concetto, con una versione più grande, cresciuta di Alter Ego, per esempio nell'ambiente del disastro, del terremoto di Amatrice, per poter valutare per esempio in sicurezza quali erano i danni subiti, se la struttura poteva essere recuperata o meno, in modo che l'ingegnere civile che doveva valutare questi danni rimaneva fuori e vedeva senza pericolo. Vedo che siamo circondati da parecchi, da progetti, ce ne sono tanti in ballo qui. Sì, sì, il centro è molto attivo, anche in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia e abbiamo molte cose, qui ne vede alcune. Questo è un sistema bimanuale con due braccia e delle mani. Queste sono mani che abbiamo progettato noi, abbiamo disegnato secondo un concetto abbastanza nuovo, che è quello di ottenere delle mani molto robuste, che possono interagire facilmente con l'ambiente. Questo ha conseguenze e applicazioni in due settori che seguiamo, che sono da un lato l'industriale, la sensorizzazione di queste mani permette di fare operazioni di montaggio, di assemblaggio, di ordino dei pezzi che altrimenti erano impossibili, e da un altro lato invece per la prostetica. Quindi stiamo utilizzando queste mani e abbiamo sviluppato delle protesi che ridanno la funzionalità della mano a chi l'ha perduta. Esistono i robot umanizzati e i robot al servizio dell'uomo, come i robot sociali, pronti all'assistenza domestica, dei veri e propri maggiordomi, e dove si possono allenare, se non in scenari reali che riproducono l'ambiente del loro futuro utilizzo. Qualcuno ha suonato alla porta Benvenuti all'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Accomodati, vi prego. Noi siamo un gruppo di ricercatori che ci occupiamo di sviluppare, progettare e testare robot sociali per applicazioni di assistenza alle persone, quindi per migliorare la qualità di vita delle persone. Questo è Doro, il nostro robot domestico, che è il risultato di una serie di progetti europei e nazionali su cui abbiamo lavorato e su cui stiamo continuando a lavorare. Questo robot ha la funzione di assistere le persone a casa ed è in grado quindi di fare tutta una serie di servizi, quali trasportare oggetti, osservare se ci sono situazioni critiche all'interno della casa, per esempio identificare se la persona è caduta o ha altre patologie o si sente male. È in grado questo robot di mettere in comunicazione la persona che vive a casa con un caregiver in remoto in modo da facilitare la comunicazione e l'assistenza in teleoperazione. Ed è in grado di fare tutta una serie di servizi anche collegandosi con gli ambienti della casa e cercando di identificare delle situazioni critiche. Dal punto di vista scientifico questo robot è sostanzialmente capace di comportarsi in maniera sociale, cioè questo robot è stato progettato in modo tale da essere socialmente accettabile da parte delle persone. Da qui la capacità del robot di comportarsi, di agire e di interagire anche con la persona in un modo più sociale possibile, cioè più accettabile possibile da parte degli utenti. Da qui quindi la capacità del robot di riconoscere i gesti e le azioni delle persone, la capacità di riconoscere anche gli stati emotivi come la gioia, la felicità, la tristezza e così via. E la capacità quindi di riuscire ad identificare anche da un punto di vista più clinico se la persona inizia ad avere durante il corso dell'età dei declini di tipo fisico o cognitivo. Tutto ciò fatto mettendo insieme una serie di sensori distribuiti sul robot nell'ambiente ma anche in sensori indossati dalla persona, quindi con un approccio che oggi diremmo Internet of Things. E il tutto poi combinato con tecniche di intelligenza artificiale. E' l'ora della medicina. E' l'ora della medicina. Ecco, questo è Coro, un altro robot assistenziale. E' stato progettato per lavorare principalmente in ambienti pubblici, coperto per esempio in condomini oppure in case di riposo, in ospedali, dove per esempio già a Firenze e ad Ancon abbiamo testato. E' un robot dunque che è in grado di sorvegliare gli ambienti, quindi di riconoscere se ci sono situazioni critiche. E' in grado di trasportare oggetti, di quindi avere funzioni di logistica. E il nostro, diciamo, obiettivo scientifico nuovo sostanzialmente è quello anche di poter estendere questo robot ad applicazioni di industria 4.0, il che vuol dire farlo diventare più collaborativo con le persone e con i laboratori e farlo connettere il più possibile a servizi in cui c'è un coinvolgimento di sensori e di tecnologie in cloud. A proposito di assistenza in applicazioni di logistiche, una delle tipiche azioni che questo robot può fare è quello di supportare nel buttare la spazzatura. Quindi sostanzialmente Coro è in grado di portare la spazzatura fuori di casa, ma lo fa in cooperazione con un altro robot, che è Oro, che è il nostro robot adibito invece per ambienti esterni. Professore, l'intervista è finita. Pisa ha dato i Natali a Galileo Galilei, il padre della scienza moderna, fondatore del metodo scientifico, osservare, ipotizzare, calcolare e poi ipotesi su ipotesi confermate dare vita a una teoria. In pratica procedere per tentativi e poi arrivare alla scoperta. Non è un caso che io sia venuta proprio qui a Cascina, di fronte a questi due lunghi bracci gemelli. Io vi presento Virgo, un cacciatore di onde gravitazionali. Questo logo della scienza è emblema del metodo sperimentale di Galileo. Adesso scopriremo perché. Dottor Losurdo, che cosa accade dentro questi bracci? Perché è così importante Virgo? Cosa ci rivela? Allora, in questi tunnel passa un grande tubo d'acciaio in cui viene fatto un vuoto molto spinto e dentro questo tubo si passa la luce di un laser molto particolare che viaggia per tre chilometri e alla fine del tunnel incontra un grande specchio sospeso che lo riflette indietro. Poi qui dentro, in questo edificio, succedono delle cose un po' strane. Ci applichiamo delle tecniche molto raffinate allo scopo di misurare, grazie alla luce di questo laser, la posizione di questo specchio con grandissima precisione. Perché facciamo questo? Perché vogliamo misurare l'effetto che su questi specchi hanno le onde gravitazionali che ci vengono dall'assù. Captiamo le onde gravitazionali. Captiamo le onde gravitazionali. Che cosa sono e perché è così importante intercettarle? Le onde gravitazionali sono delle piccolissime increspature dello spazio-tempo che si propagano alla velocità della luce e vengono generate in eventi catastrofici all'interno dell'universo. Quindi quando masse molto grandi e molto compatte sono accelerate a grandissime velocità. E questo può succedere per esempio quando esplode una supernova o quando due buchi neri collidono. Ma la cosa veramente importante è che queste onde gravitazionali ti portano informazioni da eventi che di solito non emettono luce, non emettono radiazione elettromagnetica. Quindi sono l'unico mezzo che abbiamo per investigare il lato oscuro dell'universo. Molto bello questo concetto. Poi lo approfondiamo. Torniamo un po' indietro. A quando sono state captate per la prima volta le onde gravitazionali? Anzi, un'onda è stata captata. il segnale di un onde è stato captato. Quando è stato? È stato il 14 settembre del 2015 una data che ovviamente noi che lavoriamo nel settore ricorderemo finché vivremo. Ha cambiato la vostra vita possiamo dire la vostra. Assolutamente sì. Tra l'altro la cosa curiosa è che questo è avvenuto dopo 100 anni che Einstein le aveva previste. L'annuncio è stato poi dato nell'11 febbraio del 2016. We have detected gravitational waves. We did it. Sono passati cinque mesi tra la rivelazione e l'annuncio perché si trattava del primo evento. Lo scrupolo e la cura che ci abbiamo messo per fare tutte le verifiche è stato assolutamente maniacale. Volevamo essere ultra sicuri che stavamo dando un annuncio assolutamente attendibile. Un evento che ha cambiato e che modificherà anche la storia della scienza e della fisica in un certo senso perché è un descrivere il firmamento con un altro senso in un certo modo. Assolutamente. La portata epocale di questo evento sta non tanto nell'aver dato un'ulteriore conferma che la teoria di Einstein della gravità è corretta ma soprattutto nel fatto che apre una nuova finestra nell'universo. Abbiamo a disposizione ora tramite questi strumenti un nuovo metodo di indagine dell'universo. È come puoi immaginare di essere un medico che fino ad ora ha fatto una diagnosi sui pazienti avendo a disposizione solo la radiografia e all'improvviso gli si mette a disposizione la dissonanza magnetica. Quindi anche voi fisici avete messo a punto degli strumenti sofisticatissimi. Assolutamente. E se vuoi scoprire altri segreti di Virgo puoi venire con me nel building sperimentale. Andiamo. Facciamo un viaggio lungo cent'anni. In 1916 Albert Einstein prevede le onde gravitazionali. 2016 viene dato l'annuncio che un'onda gravitazionale è stata catturata. In questi cent'anni c'è stata una bella evoluzione tecnologica immagino. Certo, assolutamente. È questo che ha reso possibile la scoperta. Perché, questa è una curiosità, quando Einstein ha previsto l'esistenza delle onde gravitazionali ha anche detto che pensava che non avrebbero mai avuto alcuna importanza per la fisica in quanto troppo deboli per essere rivelate. Soltanto negli anni Sessanta i fisici hanno cominciato a credere di poterle catturare anche se lo hanno fatto con tecnologie quelle delle cosiddette barre risonanti che si sono rivelate inadeguate. A metà degli anni Settanta sono stati proposti gli interferometri e alcuni fisici hanno cominciato a lavorarci sul serio. Ci sono voluti circa trent'anni prima che questi grandi interferometri potessero effettivamente funzionare. Adesso siamo all'ultima fase in ordine di tempo che è quella degli interferometri cosiddetti avanzati. Anche noi di Virgo abbiamo prima fatto funzionare nella prima decada di questo secolo e ora abbiamo finito di installare Advanced Virgo. Abbiamo sfruttato l'evoluzione di tutta una serie di tecnologie che vanno dai laser alla qualità degli specchi, al sistema di vuoto, al sistema di sospensioni, al sistema di compensazioni termiche che ci hanno permesso di realizzare un rivelatore capace di guardare dieci volte più in lontano rispetto a quello che poteva fare Virgo. Un macchinario del genere, quale prospettive può aprire per la scienza? Enormi, perché in particolare ora che sappiamo effettivamente che le onde gravitazionali esistono, possiamo mettere in rete Virgo con i due interferometri americani e con quelli che verranno costruiti in futuro e realizzare un osservatorio mondiale di rivelatore interferometrici di onde gravitazionali che ha la possibilità di essere, tra virgolette, puntato come se fosse un telescopio, cioè di individuare da quale punto del cielo ci è arrivato il segnale di onde gravitazionali. Questo ci darà la possibilità di avvertire i nostri colleghi astronomi, quelli che fanno funzionare i normali telescopi o i radiotelescopi, in modo che possano puntare i loro strumenti nella stessa zona del cielo e capire se oltre all'onda gravitazionale la stessa sorgente ha emesso anche radiazioni di altro tipo. Nascerà così l'astronomia multimessaggero che aprirà davvero nuove prospettive nella nostra comprensione del cosmo. La scienza e i suoi sensi, la vista e l'udito. Se prima con i telescopi siamo stati in grado di osservare, adesso con Virgo e i suoi partner invece riusciamo anche a sentire, ad ascoltare fenomeni celesti inaccessibili, misteriosi, invisibili. A proposito di invisibile, vi sto per portare dove tutto è incredibilmente piccolo, anzi piccolissimo, eppure visibile. È il nanomondo del laboratorio NEST, il National Enterprise for Nanoscience and Nanotechnology, un centro di ricerca e formazione della Scuola Normale Superiore di Pisa. Direttore Giovannetti, buongiorno. Buongiorno, Chiara. Qual è la realtà scientifica di questo centro di ricerca, NEST? Dunque, il NEST è un laboratorio di ricerca e formazione della Scuola Normale Superiore di Pisa, a cui afferiscono vari enti di ricerca, tra cui l'IT, Istituto Italiano di Tecnologia, il CNR, la Scuola Sant'Anna. È un centro multidisciplinare? Sì, è un centro multidisciplinare dove si studia prevalentemente fisica, ma anche biologia, chimica, e ci occupiamo di andare ad analizzare quei fenomeni che avvengono a scale molto piccole, dell'ordine di 10 alla meno 9 metri, appunto, in nanometri, dove avvengono cose che non sono esattamente quelle a cui siamo abituati nella vita di tutti i giorni. Ti propongo di iniziare la tua visita del laboratorio. Molto volentieri. Pasquale Antonio, il direttore mi ha affidato a te. Ciao, piacere. Qui fate nanoscienze. Come? In questo luogo, che è la camera bianca del NEST, modifichiamo la materia sulla nanoscala, quindi la riportiamo a delle scale di grandezza, che sono quelle del nanometro, cioè un miliardesimo più piccolo del metro, e andiamo a studiare attraverso dei microscopi, attraverso delle apparecchiature speciali, le proprietà nuove che la materia acquista. Qui abbiamo tutto quello che serve per poter modificarla, manipolarla, visualizzarla. Quindi, ad esempio, un mio capello è grande un nanometro, misura un nanometro? No, no, è molto più grande. Sono circa 50.000 volte più grande. Vieni dentro, ti porto a vederlo, però prima devi vestirti, perché un reno di polvere è 5.000 volte più grande di un nanometro e sarebbe come una montagna su un topolino, quindi devi vestirti per entrare dentro. Vado a vestire, ci vediamo dentro? Ok, ciao. Oh, ci siamo tolti la polvere di dosso. Adesso mi fai vedere quanto è grande un mio capello rispetto a un nanometro? Va bene, te ne posso strappare uno? Sì, fai piano. Ah, scherzo. Ok. Allora, prendiamo il tuo capello e lo mettiamo su un portacampione speciale all'interno di questo microscopio che ha delle caratteristiche particolari che permetterà di vedere appunto le dimensioni del tuo capello sulla nanoscala. Ti stupirà vedere quanto è grande il tuo capello rispetto alle dimensioni del nanomondo. Fantastico, ma gli altri campioni cosa sono? Gli altri campioni sono dei nano capelli, che noi chiamiamo nanofili semiconduttori e ti faremo vedere come questi oggetti che crescono come un prato che sono all'interno della camera del SEM del microscopio possono essere poi manipolati e fare delle nanofabbricazioni che prendono uno solo di questi nanofili e fanno dei contatti elettrici sul nanofilo stesso. Fantastico, mi fai vedere? Andiamo. E quindi il mio capello dov'è adesso? L'abbiamo inserito all'interno della camera su questo portacampioni. Questa è un'immagine ottica che vedi e adesso faremo in modo di vederlo con un microscopio a elettroni. Quello che facciamo è che invece di usare i fotoni per guardare la materia utilizziamo gli elettroni. Gli elettroni vengono emessi dal campione e noi ricostruiamo un'immagine virtuale del tuo capello che vedi qui adesso sullo schermo. Che sembra enorme. Innanzitutto ti faccio vedere che il tuo capello come abbiamo detto è circa 50.000 volte più grande di un nanometro. Vediamo un po' le dimensioni tipiche dei tuoi capelli. Ok 60 micron. Ecco io me lo ricorderò i miei capelli sono larghi 60 micron. Abbondiamo di 60 micron che è confrontato con i nostri nano capelli quelli che noi chiamiamo nanofili semiconduttori vedrai a una scala totalmente diversa. In questo caso hanno una dimensione caratteristica di un diametro di 20 nanometri. Questi li cresciamo in una camera qui al Nest attraverso un processo molto speciale e questi capelli che vedi comparire piano piano che sembrano dei fili d'erba non solo li possiamo crescere quindi modificare la materia possiamo visualizzarli possiamo staccarli dal substrato utilizzarne uno solo per andarne a verificare le proprietà dal punto di vista del trasporto elettronico in questo caso. Ecco ma mi spieghi esattamente a che cosa serve tutto questo? Quali sono le applicazioni delle nanoscienze? Ti faccio vedere un dispositivo che è fatto con uno di questi nanofili. Ecco tipo con questi nanofili cioè crei un nuovo sistema elettronico che ha come base un nanofilo invece che è un sistema su scala più grande le proprietà di trasporto degli elettroni all'interno di quel sistema che è piccolissimo e unidimensionale cambiano drasticamente si apre un mondo nuovo dal punto di vista delle proprietà fisiche chimiche e anche biologiche questo è quello che facciamo con gli elettroni però al Nest facciamo tante altre cose per esempio con i fotoni possiamo fare delle cose bellissime guardando la materia biologica e se viene di là ti faccio vedere una bella applicazione in questo senso dai vediamo un po' di luce ok è permesso siamo nel laboratorio nanoplante della scuola superiore Sant'Anna e Chiara Pucciarello che è la responsabile di questo laboratorio usa invece i fotoni per studiare processi biologici alla nanoscala e quindi applicarli a diversi settori su che tipo di cellule animali o vegetali? in questo caso usa le piante e quindi Chiara ci può mostrare che tipo di piante utilizza nel suo incubatore ecco quelle che vedi sono piante di vario genere anche dei modelli ma ci sono anche dei pomodori della soia tutto questo studio sulla nanoscala dei fenomeni biologici può portare a delle applicazioni nel campo dell'agricoltura scienza natura tecnologia tre grandi soggetti dentro questo incubatore un legame inscindibile che Pisa può vantare in molti angoli del territorio come in quest'oasi del WWF stiamo entrando in uno dei più bei boschi di pianura che c'è in questa zona della provincia di Pisa è di proprietà del parco regionale Migliarino San Rossore ed è stato dato in gestione al WWF perché al WWF? al WWF perché è una delle entità italiane nazionali per la protezione e la conservazione degli habitat come quelli in cui appunto ci stiamo avvicinando parliamo dei progetti di ricerca che vengono svolti in quest'area un'area stupenda il parco ha patrocinato e finanziato alcuni progetti specialmente sui grossi piccoli mammiferi che stanno in quest'area e l'hanno chiamato i denti fauna la cosa è divertente e interessante perché sono state messe tutta una serie di fototrappole che sono state attive di giorno e di notte e sono stati trovati tutta una serie di animali nello specifico e in particolare c'è un'alta densità di martore che una volta si pensava fosse molto raro in realtà è una specie veramente veramente frequente e sono stati fatti i monitoraggi sulla distribuzione delle specie di anfibi e di rettili del parco e nello specifico di questa zona con particolare attenzione sulle vipere quindi la vipera comune che è presente sia all'interno del bosco che sui margini e sulla testugine palustra della hemis orbicularis che è la nostra specie autoctona quindi tipica di questo bosco e delle zone centrali dell'Italia nel bosco non è soltanto fauna ci sono una serie di piante particolari di questa zona che sono veramente importanti e tra queste ce n'è una che è una liana una liana tipo quella di Tarzan però più piccola fa dei fiori stupendi ora è in fiore proprio ferita in questi giorni dei fiorillini viola è una cosa veramente particolare che si trova in questa zona in poche altre zone del parco ed è un endemismo e una particolarità che abbiamo di quest'area si è appena tuffata una testugine palustre esotica è una testugine americana purtroppo è una delle brutte notizie durante questa attività di monitoraggio nei monitoraggi che stiamo facendo da alcuni anni siamo riusciti a campionare il numero di testugini palustre dell'Osi e nello specifico quando le catturiamo con le trappole e con le nasse gli animali vengono controllati e soprattutto nel caso delle femmine vengono palpate per verificare se hanno le uova la cosa interessante è perché se hanno le uova vengono portate a veterinaria poco distante da qui e vengono ecografate e nel caso di presenza di uova calcificate vengono fatte anche delle radiografie calcolare il numero delle uova ci dà indicazioni sullo stato riproduttivo e controllandolo nel corso del tempo siamo riusciti a vedere che fanno da 6 a 7 uova per femmine si riproduttivano due volte l'anno a volte anche tre e questa è una particolarità di questa specie in questa zona assolutamente importante Pisa è città d'arte di cultura di bellezza ma è anche città di scienza fisica nucleare robotica nanoscienza zoologia bioingegneria perché la scienza è ovunque in ogni pensiero idea oggetto della nostra vita e soprattutto in ogni luogo il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi della scienza in Italia tra cultura natura ricerca e i suoi protagonisti continua alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti